Domani 27 luglio la CIA Calabria Nord ha organizzato una serie di mobilitazioni di protesta contro la carenza idrica e rigua nel vasto comprensorio di Rocca Imperiale e nel comune di Amendolara. I manifestanti si ritroveranno alle 7 presso la stazione ferroviaria di Rocca Imperiale dove procederanno verso Contradamanteci per un sit-in presso la Vasca 5. Il corteo procederà infine presso il consorzio di bonifica di Trebisacce. Al fianco dei manifestanti ci sarà anche l'amministrazione comunale di Rocca Imperiale. Con questa mobilitazione CIA Calabria Nord vuol mettere in evidenza la difficile condizione in cui operano le aziende associate della zona, le quali stanno subendo danni irreversibili alle culture. La causa della crisi idrica, secondo il presidente del consorzio di bonifica dei bacini dell'Oionio Cosentino, è provocata dal mancato rispetto degli accordi sottoscritti con l'autorità di bacino della Basilicata per la fornitura di acqua che non si è mai compiutamente attuata e che sia andata ulteriormente ad aggravarsi nel corso di questa campagna irrigua. La CIA Agricoltori Italiani in merito a questa problematica ospica un'immediata soluzione del problema attraverso un intervento sulla condotta e una rapidazione politica tra le tre regioni interessate, oltre alla progettazione e il finanziamento di una condotta autonoma che garantisca il comprensorio irriguo a Rocca tre bisacce. Non possiamo assistere ai nermi, dichiara il presidente di CIA Calabria Nord e Luca Pignataro, di fronte a quella che ci sembra una vera e propria contraddizione, vale a dire avere i bacini colmi di acqua, tanto da doverli svuotare per metterli in sicurezza e non erogare un servizio irriguo agli agricoltori. Come mai prosegue ancora il presidente e gli organi preposti non sono intervenuti anzitempo, prima dell'inizio della campagna irrigua? La manifestazione di venerdì che vedrà la mobilitazione dei nostri associati, a parlare sempre Luca Pignataro, servirà per dar maggior vigore alla battaglia sindacale sulla gestione dei consorsi di bonifica in Calabria, perché siamo convinti che questa ennesima crisi irrigua sul comprensorio di Rocca tre bisacce sia figlia di una gestione autoreferenziale opportunistica dei consorsi. Pertanto chiediamo al governo regionale una convocazione immediata di una riunione in modo da avviare una discussione su come mettere mano in modo definitivo alla riforma della legge 11 del 2003 sui consorsi di bonifica, perché la modifica dell'articolo 23 approvata dalla Consiglio regionale insieme ai piani di classifica arredatti nel 2014 fa ancora riferimento al vecchio dispositivo normativo. Giusto per intenderci, secondo Pignataro serve una riforma della legge che riporti democrazia all'interno dei consorsi ed eviti un ritorno al passato creando nuovi debiti, come per esempio la vicenda dell'ex Sibaricrati liquidata nel 2006 per un debito che ammonterebbe ad oltre 150 milioni di euro e che ricade sull'intera categoria degli agricoltori che non sarebbero neanche più in grado di far fronte. Insomma, per Cia Agricoltori Italiani, se si continua di questo passo c'è il rischio di un vero e proprio default che metterebbe a serio rischio i servizi essenziali in favore degli agricoltori.